Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. La Tronsmart ci ha abituati a prodotti dal buon rapporto qualità prezzo, ma devo dire che questa volta sono rimasto davvero sorpreso da questi auricolari tvs, mi hanno letteralmente conquistato. Attualmente hanno un costo di circa 95 euro che inizia ad essere abbastanza impegnativo, ma molto più basso degli auricolari top di gamma del momento. Ve li ho già presentati nella guida ai migliori auricolari tvs 2020, che potete vedere cliccando nella scheda informativa in questo video. Ed ora ecco anche la mia recensione. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, lascia il tuo like e iscriviti se non lo hai ancora fatto. Mi raccomando però attiva anche la campanella, altrimenti non ricevi le novità. Quindi vediamoli subito nel dettaglio, ma prima di iniziare vi ricordo che come sempre qui sotto in descrizione vi lascio il link all'offerta Amazon per questi mitici auricolari tvs. Allora, ecco qui la loro custodia di ricarica, senza fronzoli e abbastanza compatta, che una volta aperta ci offre la magnifica vista di questi auricolari. Gli Apollo Bold sono di tipo in-ear, cioè con il classico gommino che va inserito nell'incavo dell'orecchio. In confezione troviamo anche i soliti gommini di altre misure, un cavo usb-c per la ricarica, un comodo sacchetto richiudibile con laccio, libretto di istruzioni anche in italiano, guida rapida e garanzia. Per quanto riguarda la connessione wireless sono provvisti di bluetooth 5.0 con antenna laser lds, una tecnologia che permette di avere connessioni bluetooth più veloci e stabili, riducendo al minimo le latenze. Dalla mia esperienza non ho notato nessun ritardo tra audio e video, i quali risultano sempre sincronizzati. Anche la distanza di funzionamento mi sembra superiore alla media, li ho testati anche con una parete bella spessa di mezzo e continuavano a funzionare molto bene. Il processore è di Qualcomm, il modello QCC 5124, un quad core progettato per questo settore in grado di offrire prestazioni elevate con basso consumo energetico. Supporta la tecnologia ATPX HD, sempre di Qualcomm, che migliora la qualità audio su trasmissioni bluetooth. Il sonoro in effetti è tra i primi punti di forza di questi auricolari. I driver sono realizzati in grafene e includono le tecnologie audio AAC e SBC, che migliorano ulteriormente la resa sonora rispettivamente su sistemi iOS e Android. Ho provato ad ascoltare dal telefono l'audio di film su Netflix e Prime Video e sono rimasto impressionato dalla qualità, ed essendo in-ear ti fanno immergere completamente in ciò che stai ascoltando, in questo caso un film. Vi confesso che in alcuni momenti ho provato la sensazione del sonoro da cinema. Tutti i suoni e le voci sono scanditi in modo sublime e anche i bassi sono oltre le mie aspettative. Provare per credere. Naturalmente questa qualità si percepisce anche nella musica di vario genere. Ho provato ad ascoltare diversi brani, anche con sonoro HQ, quindi con registrazione di alta qualità, ed è stata un'esperienza di ascolto ad alto livello, almeno per le mie orecchie. Personalmente dal punto di vista della resa audio li consiglio a tutti coloro che desiderano un'alta qualità sonora a un prezzo accessibile. Per dovere di cronaca devo dire che con alcuni brani pieni di bassi, diciamo pompati, al massimo del volume si sente uno sfarfallio fastidioso, ma ho notato che basta scendere di una sola tacca per fare svanire il disturbo. Quindi si manifesta solo al massimo del volume e solo con certi tipi di brani. E infatti ascoltando altri pezzi, altrettanto ricchi di bassi e devo dire anche molto pompati, questo difetto non si manifestava neanche al massimo del volume. Probabilmente dipende anche dalla qualità della sorgente e al riguardo c'è da dire un'altra cosa, e cioè che anche se non parliamo di cuffie professionali da studio ma di semplici auricolari, gli Apollo Bold sono in grado di coprire un'ampia gamma di frequenze e quindi con registrazioni di bassa qualità potrebbero addirittura accentuare i disturbi rispetto a prodotti più economici, proprio come accade nei sistemi di qualità superiore. L'errore in questo caso è pensare che sia colpa degli auricolari quando invece è la sorgente a non essere all'altezza. È possibile utilizzarli con tre modalità di ascolto differenti e abbiamo la funzione ambient nella quale i rumori esterni vengono trasmessi dagli auricolari, diciamo quasi come fossero apparecchi acustici, per ridurre l'isolamento dell'ambiente circostante quando è necessaria la nostra attenzione a rumori e voci esterne. L'ho provata e funziona bene, in effetti i suoni vengono amplificati. Poi c'è la modalità ANC per la cancellazione attiva del rumore esterno fino a 35 decibel. La Trosmart parla di un sistema ibrido che utilizza più microfoni in grado di cancellare varie gamme di frequenze provenienti dall'esterno. Posso dire che si sente un certo ovattamento e alcuni suoni a bassa frequenza vengono diminuiti o soppressi, ma la resa in questo caso non è tale da farlo essere un suo punto di forza. Ciò non toglie che questa modalità può avere una sua efficacia in diverse occasioni. Infine c'è la modalità normale nella quale vengono disattivate le funzioni di cui vi ho parlato. Hanno la certificazione IP45 che gli conferisce una protezione discreta contro liquidi e polvere. In questo caso non per l'immersione accidentale, ma sicuramente contro schizzi o getti d'acqua, quindi ad esempio sudore e pioggia. Possiedono ben sei microfoni con tecnologia per la riduzione, del rumore di fondo, per fare telefonate chiare sia per noi che per chi ci ascolta. Ho provato a fare telefonate anche oltre i 20 minuti e in presenza di qualche rumore di sottofondo e mi sono trovato molto bene, senza mai un'interruzione o disturbo. Sono touch e tramite i comandi di cui potete vedere un utile schema possiamo attivare e disattivare le tre modalità di ascolto, mettere in pausa, riprendere e scorrere brani musicali o video, alzare e abbassare il volume, gestire le chiamate e attivare gli assistenti vocali. Grazie a un sensore il brano o video che stiamo ascoltando entra in pausa quando ci togliamo uno o entrambi gli auricolari e riprende quando li rimettiamo. Possiedono un'ottima autonomia fino a 10 ore che arriva a un massimo di 30 ore grazie alla custodia di ricarica. Hanno anche un bel design, sono leggeri, stanno bene nelle orecchie, insomma sono pazzeschi. Se 200 euro vi sembrano troppi per le nuove airpods, per le Bose o altri marchi del genere, allora con la metà del prezzo potete avere questi Apollo Bold che per la qualità sonora credo proprio hanno poco o forse nulla da invidiare ai loro concorrenti più costosi. Mi raccomando vi ricordo vi lascio il link all'offerta per questi fantastici auricolari tvs proprio qui sotto nella descrizione del video. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao! Grazie!